pescare show di napoli dal primo al 3 marzo si è tenuta a napoli finalmente una fiera dedicata alla pesca ci sei stato te lo sei perso ne basta la pena andare è stata una bella esperienza analizziamo insieme i pro e i contro di questa manifestazione guardiamoci la sigla e partiamo c'era proprio bisogno di una fiera della pesca qui a napoli negli scorsi anni c'è stato già qualcosa di molto simile ma non dedicato ecco così esclusivamente alle varie tecniche di pesca una cosa che si associava molto spesso anche al discorso barche imbarcazioni per cui ecco quest'anno sono state già fatte delle edizioni del pescare show al nord e negli anni scorsi ecco abbiamo potuto assistere ad altre fiere anche esclusivamente dedicata alla pesca come fiere espositive che sono state fatte a vicenza a verona e anche a bologna io sono stato molte volte a queste fiere anche a roma senza dimenticare roma e ecco posso dare dei giudizi delle opinioni anche per fare dei confronti delle differenze rispetto a queste altre edizioni sia del pescare show che delle fiere dedicate alla pesca in genere il primo punto che mi sento di analizzare è soprattutto la raggiungibilità trovare una location che sia ben raggiungibile ben collegata sia con i servizi pubblici che danno la possibilità a tanti che non sono auto munite oppure che vengono da lontano di utilizzare i treni o gli aeroporti per arrivare nel nella città dove si svolge la fiera è molto importante e da questo punto di vista mi sento di dare assolutamente un 10 su una scala di valore di 10 10 perché ecco è una location davvero ben collegata sia con il centro cittadino infatti tante persone del della zona sono arrivate addirittura a piedi mentre chi veniva da dalle città più vicine ha potuto utilizzare sia l'autovettura c'è grande possibilità grande parcheggio nella zona per poter lasciare la macchina anche in sicurezza e tuttavia ci sono tanti mezzi pubblici con cui poter arrivare sia dalla stazione che dall'aeroporto ma comunque si tratta di un posto ben collegato alle uscite autostradali della tangenziale di napoli questa è una cosa molto importante da considerare bene perché in altre location come ad esempio anche bologna dove per tanti anni si è fatta il pescare show magari aveva anche un altro nome ma era questo in sintesi quello che si faceva era una fiera unicamente espositiva e una volta raggiunta la stazione dei treni per per farvi un esempio era molto difficile riuscire a prendere un mezzo pubblico per poter arrivare alla zona delle fiere e penso che è la stessa situazione che hanno vissuto anche le persone che si sono spostate negli anni per raggiungere vicenza o verona quindi dal punto di vista della raggiungibilità assolutamente 10 10 ottimo parliamo di ticket biglietti e costi di ingresso allora il ticket è stato possibile farlo anche online quindi basta registrarsi al sito ufficiale del pescare show andata nella sezione biglietti e in qualche minuto ecco in pochi minuti si riusciva a fare tranquillamente il biglietto in autonomia e anche a tempo debito quindi senza andare di fretta era stato possibile anche utilizzare una scontistica per ridurre il costo di ingresso da 8 euro a 6 euro quindi molto molto accessibile come costo di ingresso la grande sorpresa un po' spiacevole invece è stata quella di alcuni amici che si sono ritrovati a fare il biglietto il ticket direttamente lì sul posto e hanno avuto ben belli bei problemi perché c'era tanta fila non ci si aspettava forse forse tanta affluenza per cui per poter fare il biglietto durante la giornata in cui uno voleva fare l'accesso bisognava fare una bella fila che ha scoraggiato in tanti diciamo costringendoli in qualche modo a utilizzare la piattaforma web quindi dal punto di vista del ticket per quanto riguarda il discorso online assolutamente è una cosa positiva da migliorare la velocità ecco con cui si si poteva fare il biglietto durante la giornata direttamente sul posto è una cosa che purtroppo non è piaciuta a tanti qualche parola sulla location sinceramente mi ha lasciato un po insoddisfatto perché essendo stato anche ad altre fiere soprattutto a bologna ho potuto assistere a quello che era un po il logo che ospitava la manifestazione ed è tutta altra cosa rispetto a questo che ho visto qui a napoli perché era un cielo molto basso quindi rimbombava tanto la voce il chiacchiericcio delle persone molte volte rendeva davvero difficile riuscire a fare una conversazione abbastanza agevole per cui ecco io penso che ci si aspettava un po meno persone e quindi si è optato su questa su questa location perché non ci si aspettava un grande flusso di persone grande affluenza per cui ecco sulla location ho qualcosa da dire come tante persone da cui ho preso anche i feedback una volta usciti dalla dalla fiera parliamo degli stand e dei brand che hanno esposto in in questa fiera sicuramente la location non ha aiutato dal punto di vista della realizzazione di uno stand visivamente molto interessante perché ecco ci si è dovuto limitare in quello spazio a disposizione tuttavia tanti brand hanno fatto del meglio per allestire in modo particolare in modo unico lo spazio a loro disposizione quindi dal punto di vista degli degli stand ecco c'erano alcuni davvero ben fatti ma comunque comunque molto minimal paragonati ecco a un pescare show fatto a bologna tanti anni fa a cui sono stato ecco era tutt'altra cosa perché in quel contesto lì magari si faceva anche la gara a chi faceva il lo stand più bello più interessante più coinvolgente in questo caso invece non c'è stata c'è stata una semplice esposizione molto minimal forse anche un po' troppo però tuttavia ecco c'erano dei contenuti interessanti che in un posto in una cornice leggermente migliore avrebbe dato sicuramente valore aggiunto a quello che ci che si presentava che si cercava di esporre parliamo anche del delle persone ecco dei pro staff dei testimonial presenti nei vari stand assolutamente persone eccezionali disponibilissime che non si sono mai risparmiate nel dare consigli suggerimenti nell'accogliere il visitatore e in alcuni contesti ecco c'era anche da aspettare una lista di attesa per poter parlare per poter anche stringere la mano a tante persone che nel settore ecco si conoscono magari tramite i social oppure era tanto tempo che non riuscivi a rincontrare delle persone e quindi in questa occasione c'è stata la possibilità di poter conoscere per la prima volta oppure riambracciare dei vecchi amici tuttavia dal punto di vista dei brand delle esposizioni e dei testimoni e i post staff presenti nei vari stand davvero davvero è stata una delle chicche che tutti i visitatori hanno potuto apprezzare durante questa manifestazione inoltre in vari stand c'erano anche delle presentazioni di novità quindi oltre quello che già viene diffuso viene condiviso tramite le piattaforme social cui ormai tutti attingiamo per ricercare informazioni sui vari prodotti anche in uscita c'erano tante aziende che hanno esposto per la prima volta dei progetti di futura emissione sul mercato quindi abbiamo potuto vedere e molte volte anche toccare con mano queste questi nuovi prodotti che vanno dalle esche artificiali ai fili agli ami alle montature e anche a canne mulinelli ecco quindi c'era un po di tutto e quindi avvicinandoci avvicinandosi ai vari stand c'era la possibilità di parlare con il testimonial con il brand e molte volte anche con chi aveva ideato quel prodotto quindi è un valore aggiunto davvero importante che per gli amanti del settore è davvero una cosa importante da non sottovalutare parliamo degli eventi che si sono tenuti durante le tre giornate sicuramente hanno abbracciato il più possibile quello che sono i contenuti ecco anche da portare avanti dal punto di vista delle associazioni dal punto di vista della tecnica dal punto di vista dei personaggi anche legati al mondo della pesca tuttavia io penso che c'era bisogno di fare qualcosina in più per abbracciare tutto il panorama della pesca non soltanto alcune tecniche o alcune alcune argomentazioni per cui ecco uno spunto di migliorazione in questo campo c'è sicuramente per poter abbracciare le varie tecniche magari rendere partecipe anche i visitatori con uno scambio maggiore di interazione di domande e risposte e quindi questo è un punto da migliorare sinceramente ci sono stati tanti eventi assolutamente però dal mio punto di vista per esempio anche sulla pesca spinning in mare che è una delle tecniche che maggiormente viene portata in auge qui in campagna e qui soprattutto nel nella zona di napoli o come al sud italia o le isole lo spinning in mare o comunque una disciplina in crescita in diffusione per quanto riguarda questa tecnica di pesca purtroppo non si è pensato di fare un evento dedicato almeno io dal punto di vista del come visitatore ecco non ho trovato niente di tanto interessante per potermi fermare qualche minuto in più ad ascoltare un meeting un evento dedicato alla a questa tecnica di pesca per cui ecco uno spunto di miglioramento magari per i prossimi anni sono mancati anche degli eventi legati a altre tecniche di pesca per quanto riguarda la pesca in acqua dolce ci sono stati degli eventi grazie diciamo fatto realizzati anche grazie alla pip sas che c'è un progetto di crescita un progetto di diffusione di tutela ambientale che cosa molto importante però per quanto riguarda le tecniche di pesca da fare in acqua dolce io dal punto di vista degli eventi non ho avuto nessuna informazione in merito per cui anche in questo caso bisognerebbe realizzare qualcosina in più per attrarre e per dare un contenuto al visitatore a differenza di altre edizioni del pescare show a cui sono stato in passato non c'era la possibilità di fare degli acquisti erano delle fiere unicamente espositive in questo caso e anche negli ultimi anni invece si sta aprendo la possibilità di fare degli acquisti direttamente in fiera perché davvero una cosa spiacevole uscire fuori da questo che io chiamo un po anche il paese dei balocchi no per il pescatore e non andiamo diciamo andare via senza nemmeno un piccolo ricordino da portare via magari un che può essere un rischio artificiale o qualcos'altro quindi in questo caso c'è stata anche una fiera dove era possibile acquistare è una fiera mercato tuttavia gli stand erano pronti per accogliere le varie persone che volevano acquistare c'erano diverse offerte ma c'era davvero tanta confusione per quanto riguarda anche i vari settori c'era un po' da scavare nel mercatino delle pulci e anche vedendo e sentendo i vari vedendo personalmente e sentendo anche i feedback di alcune persone che sono state lì in fiera alcuni amici ecco non è che c'erano questi grandi sconti queste grandi occasioni e ricordiamoci che la persona che è arrivata lì ha pagato comunque il prezzo di ingresso quindi si aspetta di ricevere quella offerta un po' particolare che trovi magari unicamente in fiera ecco c'è stato qualcosina ma si poteva fare sicuramente di meglio io capisco anche che dal punto di vista dei rivenditori che hanno utilizzato lo stand e comunque hanno pagato per poter esporre la loro merce ecco ci doveva essere un ritorno economico anche da parte loro assicuramente e questo qua nessuno lo può mettere in dubbio però ecco si poteva fare anche approfittando di partire qualche tempo prima con i brand del settore di fare qualche prodotto messo in offerta straordinaria per le persone che accedevano alla fiera magari anche per acquistare uno specifico prodotto quindi questa potrebbe essere un'informazione per i prossimi anni come spunto di miglioramento quest'anno c'è stata l'area social quindi anche a napoli ci sono stati tanti content creator come vengono chiamati comunemente oggi coloro che condividono la loro passione tramite i social quindi i canali youtube facebook instagram era una cosa davvero interessante c'erano tante persone tanti amici con tanti di loro ecco sono anche amico ci sentiamo spesso quindi è stata un'occasione anche per conoscerli personalmente visto che per contanti di loro ci sentiamo solo attraverso i social quindi è stato davvero un importante plus che io ho apprezzato tantissimo per cui mi sento di dire che sono davvero delle cose che fanno bene al mondo della pesca magari tanti di loro sono molto più bravi a fare video che pescare magari io sono uno di quelli però ecco c'è anche da dire che queste persone fanno conoscere il loro modo di vivere la pesca che fa avvicinare anche tante persone soprattutto i giovanissimi tanti youtuber che poi alla fine sono degli amici pescatori condividendo le loro esperienze in pesca fanno entusiasmare i ragazzini che magari non hanno mai avuto la possibilità di andare a pesca perché magari vengono da famiglie dove il papà lo zio non li porta a pesca la fortuna che magari ho avuto io nella mia giovane età e quindi vedendo tramite i video persone che condividono queste esperienze che si divertono in pesca diffondono la la loro voglia ecco di pescare e fanno appassionare sempre nuove leve quindi questo è molto importante perché aiutano a condividere e a far crescere il movimento della pesca aree ristoro e servizi si c'era c'era un baretto purtroppo non tanto fornito c'era davvero il minimo indispensabile arrivare a napoli napoli è la patria della pizza quindi si potrebbe pensare in futuro di mettere una pizzeria all'interno del tra i vari stand magari una degustazione di prodotti tipici locali come si fa in altre in altre fiere quindi questo anche uno spunto di miglioramento quindi c'era qualcosina ma è davvero davvero minimal quindi anche dal punto di vista della ristorazione potrebbe essere una cosa positiva investire maggiormente su quella quella conoscenza e la degustazione di prodotti tipici locali e veniamo alla parte finale di questo video analizziamo un po quelle che sono i pro e contro le cose che mi sono piaciute di più e le cose invece che sono delle degli spunti di miglioramento magari per i prossimi anni sicuramente ho apprezzato la possibilità di avere un posto una location molto facilmente raggiungibile per le persone per i pescatori che vengono dal sud dal centro italia e soprattutto dalle isole perché c'erano tanti amici che venivano dalla sicilia e dalla sardegna persone che non si sarebbero mai sognate di spaccarsi tutta l'italia per andare in altre città dove è stato fatto fino adesso il pescare show quindi location 10 10 è un'altra cosa mi è piaciuta tantissimo sono le persone che ho incontrato che davvero il porto dentro alcune tanti di loro e soprattutto i testimonial e i pro staff che si sono donati alle ai visitatori hanno raccontato hanno condiviso esperienze e questa è stata una cosa importante per il mondo della pesca è un processo di crescita che si fa comune perché i visitatori imparano dai testimonial e dai pro staff conoscendo anche le attrezzature e i prodotti che loro offrono e di conseguenza anche testimonial e pro staff hanno imparato hanno ricevuto le informazioni e tanti spunti di miglioramento che tante volte tante volte pescatori offrono ecco le loro esperienze e possono essere presi come spunti di miglioramento anche dalle aziende per fare dei prodotti sempre più specifici performanti e migliori tra i punti di diciamo di vista come spunti di miglioramento generico sicuramente la location poteva essere diciamo destinata alla alla fiera una location migliore una location più ampia perché magari non ci si aspettava un flusso di persone così ampio infatti gli organizzatori ecco fino all'ultimo giorno penso abbiano avuto tanti timori sulla sull'affluenza delle persone poi si sono giorno dopo giorno ricreduti perché davvero è stato un mare di persone che entusiasta sia nel nell'arrivo e soprattutto all'uscita speranzosi che questo sia un punto di partenza per riuscire a fare sempre meglio tante persone ecco confidano in una nuova edizione del pescare show molto più ampia dove ci sarà maggiormente la possibilità anche di interazione con il visitatore e soprattutto ecco questo potrebbe essere un messaggio anche a tanti brand tante aziende del settore che hanno preso sotto gamba la possibilità di partecipare a questo a questa edizione che magari potranno essere presenti nei prossimi brand perché qualcosa qualcosina mancava un'altra cosa che vorrei dire come spunto di miglioramento c'era la l'area dove venivano svolti gli eventi che era davvero troppo minimal il posto anche dove venivano svolti questi eventi non era dal punto di vista audio e video performante ci si aspettava qualcosa di più per cui anche da questo punto di vista secondo me bisognerebbe dedicare magari delle sale dedicate ai vari eventi in modo che i visitatori che arrivano lì magari vanno con l'intenzione di partecipare a questi eventi e potrebbe essere uno spunto ripeto uno spunto di miglioramento per fare qualcosa di meglio di offrire dal punto di vista dei contenuti qualcosa di più rispetto a quello che è stato fatto fino adesso che comunque sono da fare complimenti a chi ha organizzato a chi ha creduto in questo progetto e da parte mia è stata una bellissima esperienza se non ci siete andati siete persi una bella occasione per parlare di pesca cari amici ci salutiamo grazie a tutti per la visione di questo video noi ci vediamo il prossimo sempre qui sul canale planet spin come sempre lascio un saluto a tutti gli amici ciao ragazzi ciao